Il programma è offerto da Deccano Campus. Il programma è offerto da Deccano Campus. Il programma è offerto da Deccano Campus. Anche oggi tanti fatti in primo piano sulle testate nazionali, ma anche sui quotidiani online che riportano tutti i fatti della cronaca che riguarda la regione Campania e insomma ci vede tutti i protagonisti in vicende più o meno rilevanti. Ma cominciamo a vedere quali sono i fatti in primo piano. Partiamo proprio dalle notizie sulle testate nazionali e cominciamo a vedere che i primi fatti riguardano proprio Babbo Renzi. E lo vediamo direttamente dal Fatto Quotidiano. Sono le chat segrete che inguaiano appunto il padre di Matteo Renzi, Tiziano. I PM entrano nell'iPhone del faccendiere russo. Si parla dell'incontro Tiziano-Romeo e dell'ok di Renzi sull'accordo quadro per i soldi a due. E infatti vediamo, eccola qua l'immagine. Eccola qua. E ancora continuiamo a vedere che cosa riporta in primo piano proprio oggi il Fatto Quotidiano. E vediamo che nella parte alta di questo quotidiano si parla dell'autopsia Suniman-Fadil. Finalmente iniziate i nuovi avvocati della famiglia. Nessun preconcetto o tesi complottista. Ma dicono vogliamo la verità e non solo i soldi. E ancora vediamo la parte politica di questa pagina del Fatto Quotidiano. Dopo le critiche di Battista non si candida, dice il silenzio è bellissimo. E ancora il commento tototruffa l'americano sullo stadio. Ovviamente stiamo parlando di Roma. E intanto un blitz a Enna, eccolo, vide dove Riina ordinò di uccidere Giovanni Falcone. Infine nella parte bassa della pagina in Montenegro gli affari di A2A e quella strana fidanzata di Berlusconi. E infine nella parte bassa della pagina le confessioni di Battisti. Passavo per un intellettuale, dice nessuno mi ha mai dato la caccia. Questo emerge adesso dai verbali. Infatti Sardegna, carcere di Oristano, l'ex terrorista che cosa fa? Parla per la prima volta e subito entra nel merito rivelando un clamoroso. Infatti dice nessuno mi ha mai dato la caccia. Oggi ho 64 anni, sulle spalle 4 omicidi e un ergastro. È lucido, sintetico, ragionevolmente critico. 10 le pagine verbale per rimettere insieme un'istanza durata 28 anni. Battisti conferma la verità dell'esistenza e della sentenza e per lui e per gli altri condannati. Però non fa nomi, ma spiega quella caccia mancata. Gli appoggi di cui ho goduto sono stati più delle volte di carattere politico, rafforzati dal fatto che io ero ritenuto un intellettuale, scrivevo Libri, ero insomma una persona ideologicamente motivata, per cui nessuno sentiva il bisogno di agire contro di me. Insomma, una vera e propria requisitoria su quanto riguarda i fatti inerenti ai proprio Battisti, con il suo accusarsi dei 4 omicidi, dopo tanti anni in cui aveva dichiarato di non essere colpevole, adesso, ma a questo si aggiunge non solo la denuncia su di questi 4 eventi, questi 4 omicidi, ma soprattutto vediamo questa sua affermazione che rimanda tutto in discussione. Scusatemi. E ci spostiamo ora sulle altre pagine dei quotidiani nazionali. E stamattina, ovviamente, essendo in diretta, c'è questo piccolo problema della tosse, ma vediamo quali sono i quotidiani nazionali, andiamo sul libero, Di Maio sarà sostituito da un boia e infatti Di Battista darà il colpo di grazia. I grillini invocano il suo ritorno come fosse il messia, ma da quando Di Ba è tornato non ne ha azzeccata una, può solo affossare il Movimento 5 Stelle, assolutamente non salvarlo. E ancora vediamo nella parte sinistra della pagina, lui si pente, loro no, il terrorista Battisti sbugiarda i suoi protettori, ma a quanto pare dall'altro lato sembra essere tutto in negativo. Insomma, anche qui tante polemiche. E ancora nella parte centrale della pagina vediamo due immagini. Toninelli che viene definito il re degli incapaci. Lascia entrare i clandestini. Frena Salvini e inventa aeroporti inesistenti. E intanto vediamo lo sport. Eccoci qua, il papà di Ken è leghista, la Juve mi deve due trattori. Il genitore del bomber azzurro a questo punto si confessa. E ancora vediamo, torniamo ancora sulla politica. L'europeista Zingaretti, nuoce al suo PD, mette l'Unione Europea nel simbolo. E nella parte bassa della pagina vediamo le novità che arrivano dalla comunità europea. Ufficiale Bruxelles si intromette perfino sulle lancette dell'orologio. Ci tocca scegliere, ora legale, ora solare. Ecco, dal 2021, questa è la notizia che oggi ci farà discutere un po' tutti, si dovrà scegliere proprio se si dovrà avere sempre l'ora regale o l'ora solare. Non sarà uguale per tutti i paesi, ma ciascuno dei paesi della comunità europea dovrà scegliere quello che reputerà meglio per la propria situazione. La certezza è quella che adesso siamo stati abituati ad avere questi due momenti, quindi il cambio dall'ora solare all'ora regale e viceversa. E vi ricordo che appunto domenica cambia l'ora ancora una volta, però che cosa accade? Che adesso, secondo vari studi che sono stati effettuati, proprio il passaggio dall'ora legale all'ora solare e al contrario, che cosa provoca? Provoca dei danni comunque all'uomo e di conseguenza si è deciso per un appiattimento di questa situazione. E così adesso ci troveremo a dover affrontare un nuovo cambiamento, un nuovo passaggio, ma soprattutto un passaggio perenne. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, il tempo. Vediamo quali sono i fatti raccontati questa mattina. Le soffiate su conte della Cricca, Movimento 5 Stelle. I due amici arrestati con Marcello De Vito, intercettati mentre svelano i piani del governo, patrimoniale straordinaria fra il 4 e il 7% sugli immobili. Addio Salvini Di Maio nel 2020. E intanto per gli artigiani, rivincita contro il comune, multati per Tavolino Selvaggio, ma il Consiglio di Stato dà loro ragione e boccia il regolamento. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Il Papa è in Campidoglio, dice, curate Roma. E ancora il Movimento Raggi blocca quello stadio. Pallotta insiste, lavori entro il 2019. E nella parte bassa della pagina si parla di sport e vediamo che l'Italia fa 6 a 0 all'X10 nella nazionale dei giovani doppietta vintage di Quagliarella. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Andiamo a vedere che cosa racconta oggi il giornale. Ed eccoci qua nella parte alta della pagina. Si parla di Battisti, verbali shock, confessioni di un terrorista. Non so perché ha ucciso, dice, negozianti da punire, ma non sono feroci. I miei difensori ideologizzati. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Rami, Salvini, cambia idea. Subito la cittadinanza, l'eroe della strage sventata. E insieme a Rami anche Adam, l'altro bambino che comunque ha aiutato Rami a evitare danni maggiori per questo pullman di bambini. E ancora vediamo le altre notizie. 50 anni di bugie sulla superiorità morale degli intellettuali rossi, compagni che sbagliano. E intanto nella parte sinistra della pagina, passato e futuro, tutta la verità sul centro-destra, però pensate un po' 25 anni dopo. E intanto la bugia di Matteo sull'Inter Milan. Matteo Salvini ha detto che il centro-destra è una categoria politica morta. Se le parole hanno un senso, oggi stesso dovrebbe saltare i governi di Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli, Abruzzo, Molise, Sicilia e anche Sardegna. Insomma, tutte ragioni guidate evidentemente da morti viventi del vecchio centro-destra. Ed ecco ancora una volta che bisognerebbe porre attenzione alle parole che vengono utilizzate o perlomeno stare proprio sulla chi va là quando si apre la bocca agli si d'affiato. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. TV per la prima volta, Canale 5, Supera Rai 1, Flop Giallo Verde, Aviale Mazzini. E intanto vediamo anche le altre notizie. Il padre del calciatore nero non vuole migranti irregolari, altro che gli usosori, il babbo del neoazzurro Ken, zittisce i buonisti. E ancora una volta vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano. Si parla anche su questo quotidiano di Papa Bergoglio che tenta il miracolo. Resuscitare la Roma grillina, il Papa in Campidoglio, e dice è la prima volta. E intanto vediamo nella parte bassa della pagina altre novità sull'attualità della comunità europea. Tagliani spiega la norma dell'Unione Europea su quello che è il nuovo diritto d'autore. E infatti dice proprio così, finisce l'era dei pirati web. E la svolta dell'Unione Europea è proprio su questo argomento che è quello del copyright. E ci domandiamo effettivamente se terminerà in questo punto quella che viene definita la pirateria oppure no. Ma questo lo vedremo nei fatti. Ma sempre a lungo andare. E ancora vediamo il commento, è giusto pagare quel che si usa, anche l'informazione. Soprattutto quando si parla di operazioni in relazione proprio alle attività giornalistiche. Perché molto spesso si copia senza neanche dare un riconoscimento alla testata da cui si è presa l'informazione. Questo ovviamente è un atteggiamento che si è maturato nel corso del tempo. È diventato sempre più consuetudine, tanto da diventare quasi la norma. E molto spesso non si fa più caso a quello che si fa. Ma la norma sul diritto d'autore adesso sembra voler bocciare proprio questo atteggiamento negativo e dare all'informazione quello che è giusto sia in termini economici che in termini di diritti. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano. Ci spostiamo adesso sul quotidiano all'area pubblica. E si passa a parlare di fatti un po' più concreti. È quella che viene definita la bolletta elettorale. Presidente dell'autority nominato da Di Maio riduce fortemente le tariffe da aprile. Effetto dell'inverno mite e del ribasso sul mercato energetico. Il leader 5 Stelle dice un aiuto alle famiglie. Infatti c'è una riduzione dell'8,5% sulla luce ed è gas del 9,9%. Insomma, riduzioni che sicuramente fanno piacere alle tasche degli italiani. Ma bisogna vedere in concreto se queste riduzioni nel lungo periodo saranno valide, saranno attuabili e se effettivamente avranno un interesse così come paventato in questa prima pagina. Ancora vediamo l'editoriale su Zingaretti nel mondo X. Sopravvivere non basta. E ancora nella parte bassa della pagina, Merkel-Macron, grande patto con Xi e intanto lo schiaffo all'Italia. E intanto ancora un occhio sulla capitale, metro e rifiuti del nostro scontento. E nella parte bassa della pagina, anche qui si parla dei protettori di Battisti, si fa presto a dire sinistra, vera e propria polemica su questa vicenda. Ed ancora lo scacco a Google Company, passa la legge sul copyright e adesso ne vedremo proprio delle belle. Ma ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, ci spostiamo adesso su Il Messaggero ed andiamo a vedere che cosa racconta proprio in questa giornata. e il Papa dice no al degrado di Roma. Così apre appunto questa mattina Francesco in visita al Campidoglio. Tanto splendore richiede cure, la città sia accogliente. E sugli scandali serve una rinascita morale ma anche spirituale. Raggi soddisfatta e la Lega intanto attacca. E insomma Bergoglio grazie alla sindaca, ma la capitale è un calvario. E' questo che viene annunciato appunto e lo vediamo proprio in questa immagine dove vediamo Papa Bergoglio e alle sue spalle in alto vediamo proprio la sindaca di Roma, Raggi. E l'intervista proietti buono a non inferire ma ora damose da fa. E il retroscena agli arresti vado lo stesso e spunta l'asse sui migranti. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano proprio da questa pagina. Copyright svolta a Strasburgo, tutela sul web, a editori ma anche artisti. Il Parlamento dell'Unione Europea approva l'equo compenso. Cosa cambia in Europa? Tutto nei minimi dettagli. E ancora lo scudo alla qualità, la sfida in Italia per ratificarla, governo contrario. E ancora una volta vediamo lo stop dell'Unione Europea, ora legale a Dio dal 2021. Sarà un'ora fissa. E ancora ci spostiamo su un'altra pagina di Un Quotidiano Nazionale. Andiamo a vedere la stampa, che cosa ci racconta oggi. E vediamo che in apertura si parla della svolta dell'Europa. Nasce lo scudo online per il diritto d'autore. L'Europarlamento approva le nuove regole. Perrone e editori vince la cultura. La rabbia dei giganti del web contro la riforma. Il Movimento 5 Stelle dice la modificheremo. E ovviamente già partono tutte le prime mozioni per andare verso una traiettoria diversa. E ancora vediamo la banalità della rivoluzione. A Strasburgo via libera al nuovo diritto d'autore. L'Europarlamento si spacca, ma gela i giganti del web. E infatti stima per 5 voti il tentativo di smontare gli elementi chiave del testo. Esultano gli editori. I colossi di internet invece sono in rivolta. Intanto il Movimento 5 Stelle sogna un blitz per modificare la legge. E voi che cosa pensate di questa svolta in termini di copyright? Siete favorevoli? Siete contrari? Dietecelo sulla pagina di Teleprima. Ma intanto che voi riflettete su questa risposta, io vi lascio qualche attimo di pubblicità e poi ritorniamo subito dopo in studio. Non andate via! Non andate via! All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus. Il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ben tornati in studio, siamo ancora una volta pronti per affrontare quelle che sono le notizie in primo piano dell'informazione che viene dalle testate nazionali e continuiamo a sfogliare le pagine della stampa. E vediamo ancora una volta sulla sua prima pagina una notizia che darà tanto da discutere e soprattutto farà scattare tantissime polemiche. Infatti all'osservatore romano, come possiamo vedere nell'immagine, scoppia la guerra delle donne. E infatti Scaraffia, noi stanche di essere invisibili. Ma proprio questa informazione, proprio questa notizia la vogliamo andare a vedere nei particolari e come vogliamo fare? Vogliamo vederla direttamente dal Corriere della Sera. E infatti vediamo che cosa è accaduto. E vediamo infatti una lettera a Papa Francesco, mensile femminile dell'osservatore, dopo le denunce di abusi sulle suore si dimette Lucetta Scaraffia. Ed eccoci qua. La vediamo nell'immagine. Eccola qua. Lascia tutto lo staff di Donne Chiesa Mondo. La decisione dopo l'arrivo del nuovo direttore Monda è in seguito alle denunce degli abusi sulle suore. Ora ci sembra che un'iniziativa vitale sia ridotta al silenzio. Il neodirettore garantita totale autonomia. Ed eccola qua. La vediamo proprio qua. La città del Vaticano si sono dimesse tutte. La direttrice Lucetta Scaraffia e tutto lo staff di Donne Chiesa Mondo. Il mensile femminile dell'osservatore romano, che sotto la direzione precedente di Giovanni Maria Vian aveva rappresentato una svolta storica per il quotidiano della Santa Sede. La lettera di Scaraffia a Papa Francesco parla di una delegittimazione strisciante e spiega le ragioni di una decisione maturata dopo l'arrivo del nuovo direttore Andrea Monda, a dicembre il nuovo assetto della comunicazione vaticana. Ora ci sembra che un'iniziativa vitale sia ridotta al silenzio e che si torni all'antiquato e arido costume della scelta dell'atto sotto il diretto controllo maschile di donne ritenute affidabili. Insomma, è una volta e soprattutto è una svolta in termini economici, di informazione, di volontà, perché per la prima volta le donne sembrano proprio ribellarsi e lo fanno da un'attestata così importante qual è appunto l'osservatore romano. Le donne non ci stanno più, le suone neanche, e a questo punto c'è la volontà di creare qualcosa che sia diverso dal universo maschile, autoritario e solamente quello che emerge proprio dai fatti. Ma ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano sulle testate nazionali e ci spostiamo adesso proprio sulla prima pagina del mattino ed andiamo a vedere in questo caso come racconta i fatti. Si parte dall'alto ancora una volta con le notizie brevi, le cosiddette civette, l'ex portiere Lady Giuliani, mio marito ignorato perché, pensate un po', morto di AIDS, questa è una denuncia forte che viene raccontata dalla moglie del giocatore. Ancora qualificazione Euro 2020, vola l'Italia di Mancini, quagliarella da record anche in nazionale. E intanto il caso molesti, osservatore romano, lo straio, strappo delle donne. È un vero e proprio strappo quello che viene annunciato anche da questa pagina proprio sull'osservatore romano. E ancora vediamo nell'apertura di pagina, a quota 100, la frenata. Dopo il boom iniziale, il netto calo delle domande nell'ultima settimana, la corsa di esodati, piccoli autonomi e statali al sud, la crisi stoppa i privati. Le domande per accedere a quota 100 hanno superato le 100.000 unità, perdonatemi, ma la corsa al pensionamento anticipato si è interrotta rispetto alle scorse settimane. E dietro ai numeri c'è soprattutto la condizione lavorativa di chi ha presentato la domanda a esodati, lavoratori autonomi e statali al sud. Inoltre alla crisi, spinge a fare i conti in tasca con la pensione, si avrebbe una pesante decurtazione rispetto allo stipendio. E ancora una volta vediamo che i fatti parlano da sé, parlano chiaramente, è proprio la quota 100 che sta creando delle serie difficoltà al mercato in termini, uno, di riduzione delle persone che comunque lavorano e determineranno quindi una mancanza di queste persone. Secondo luogo, quota 100 determina una decurtazione della pensione rispetto allo stipendio e molte persone stanno valutando che effettivamente non sia così conveniente come apparentemente dimostrato. Ma insomma è ancora tutto in divenire, anche perché è una partenza piuttosto lenta, ma si vedrà anche questo con calma. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano proprio nel mattino ed eccoci qua, vediamo l'analisi fatta da Massimo Adinolfi nella parte sinistra della pagina PD. L'eterno errore di inseguire i grillini e dice proprio così può darsi che nei prossimi mesi i 5 Stelle si sparineranno. È una prospettiva che i democratici devono tenere in debita considerazione, ha suggerito ieri il neosegretario democrat Zingaretti alla prima riunione della direzione dopo il voto in Basilicata. Se quelli forse possono sparinarsi, il PD di sicuro deve ancora acquagliare. E questi sono i punti intorno a cui deve coagularsi un nuovo consenso nel campo del centro-sinistra ed è ancora tutto da vedere, soprattutto dice proprio Adinolfi, da capire. Infatti siamo ancora in alto mare. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Il Sialprogetto si parla di Popeie e della ruota panoramica, pensate un po', vista scavi. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie che proprio fanno discutere. Vediamo in primo piano Miller, sangue infetto, la giustizia lumaca, ha salvato, pensate un po' i colpevoli, il primo PM dell'inchiesta. Troppi vent'anni, dossier rimpallati e testimoni ormai morti. E si è arrivati proprio a quello che si temeva, ossia una punizione inesistente per colpevoli che effettivamente colpevoli non sono. E infatti nella vicenda giudicataria e giudiziaria del sangue infetto, conclusasi ieri a Napoli con l'assoluzione di Duilio Poggiolini, il vero nemico è stato il tempo, troppi vent'anni, dossier rimpallati e testimoni ormai morti. La giustizia lumaca ha salvato i colpevoli. Archivaldo Miller per quasi mezzo secolo ha indossato la toga di PM e negli anni 90 ha coordinato il pool nelle inchieste sulla tangentopoli napoletana. E adesso l'allarme è sempre più evidente. È ancora da Napoli a Dubai, arrestato con i soldi del lavoro interinale e nascosti nello zaino. E nella parte centrale della pagina, eccoci qua, chi copia paga. Europarlamento via libera anche all'addio dell'ora legale dal 2021. E ancora il limite che garantisce la libertà, e questo è il commento di Picone, deve essere decisamente una scelta importante, quella adottata dal Parlamento europeo, sulla direttiva che regola il rispetto del copyright. Sulla rete se per una volta vede concordi editori e autori, imprenditori e giornalisti, operatori ed anche artisti. E insomma, per la prima volta c'è un vero e proprio accordo su questa normativa che adesso sembra fare chiarezza e soprattutto andare a tutelare l'opera di chi veramente rende una questione sempre più illegittima, nuovamente legittima. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano. Ci spostiamo adesso su il manifesto. Salvini, buono, Iusso, soli ma solo per due. Il ministro ricambia idea e ora dallo che alla cittadinanza per Rami e Adam, Di Maio, merito mio. E ancora vediamo che si parla ancora della nuova crociata, che è quella contro la legge 194, il DDL della Lega, proprio sull'aborto. E anche di questo ne parleremo dopo. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, eccoci qua, quello che viene definito da questa testata, delitto d'autore. Il Parlamento europeo approva la controversa direttiva sul copyright che diventa il diritto proprietario dei colossi della rete, i gruppi politici spaccati, sul compromesso raggiunto tra interessi delle imprese digitali e dei grandi editori, il rischio della censura preventiva. Ma diciamocelo chiaro, la prevenzione e soprattutto la censura oggi sono ancora più vitali, ancora più attivi di quanto un tempo lo fossero in realtà. Insomma, adesso non si parla di censura, ma bisogna sempre stare molto attenti a quello che si può dire e quello che non si può dire. E ancora vediamo le altre notizie. Dall'Algeria, l'esercito Iscena, destituire il Bouteflika per salvare il sistema, i Dagazza, nessuna tregua, l'Etaniao non si fa superare a destra. E nella parte bassa della pagina, anche qui si parla di osservatore romano, Rucetta Scaraffia lascia maschilismo all'ennesima potenza, terremoto nel principale organo di informazione del Vaticano, e infatti Scaraffia lascia Donne Chiesa Mondo, l'inserto mensile dell'osservatore romano da lei fondato e diretto insieme al suo staff maschilismo e clericarismo soffocanti. Questa è la denuncia che viene fatta. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano sulle testate nazionali. Ci spostiamo adesso sulla parte economica con il sole 24 ore. si parla di DEF, crescita ferma a più 0,1%, e deficit intanto verso quota 2,4%. E ancora vediamo, nel primo trimestre tornano di moda i mutui a tasso variabile. E nell'apertura di pagina, canto, danza e musica, la scala sbarca a Riyadh. E vediamo una bella immagine di un progetto dell'Accademia in Arabia Saudita. E nella parte bassa, anche il web pagherà i diritti d'autore. E' proprio il caso di dirlo finalmente. E ancora nella parte bassa, Nexi in borsa vale fino a 8 miliardi, banca in uscita con 400 milioni. E ancora continuiamo proprio sulla parte economica con Italia. Oggi una rivoluzione sugli incentivi. Contributi al 50% alla trasformazione digitale, crediti d'imposta alle start-up innovative per le assunzioni. Una legge Sabatini potenziata ma anche illimitata. E nella parte centrale della pagina, Barack Obama avrebbe contribuito a creare un pericoloso Stato islamico in Medio Oriente. Così racconta questa mattina Pierluigi Magnaschi. E intanto nella parte bassa, ok, alla confisca dei beni futuri. Per la Cassazione, in caso di frode fiscale, è possibile la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato. E intanto diritto d'autore online, ok, del Parlamento dell'Unione Europea, alla direttiva. E ancora ci spostiamo sulla parte sportiva. Vediamo che cosa è accaduto nella giornata di ieri. Malcom, l'Inter ci riprova. Nel 2019 solo 32 minuti, col Barcellona nella Liga. Il club di Zang in azione. E intanto nella parte centrale della pagina, tutto quaglia. Gioco, gol, divertimento. E il bis del vecchietto per 6 a 0. Euroqualificazioni. Festival Italia contro l'Iksten. Il Doriano diventa il più anziano. Bomber azzurro. In rete anche Sensi. Verratti, Ken e Pavoletti. Siamo primi da soli. Bosnia-Grecia finisce 2 a 2. Mancini, bravi. Missione compiuta. E intanto Ronaldone salta almeno 3. E infatti ne salta almeno 3. Il fenomeno ha una lesione modesta alla coscia, ma contro l'Ajax sarà in campo. Insomma, una piccola pausa per poi ritornare a giocare. Nuovamente, ancora da Tutto Sport, a Ajax ci sarà. Questa è la promessa che fa appunto Ronaldo, che torna a Torino e avverte i lanceri. Il K.O. di Resbona non mi impedirà di giocare in Champions il 10 aprile. Cristiano salterà Empoli, Cagliari e Milan. I medici però sono ottimisti. E nella parte centrale della pagina, anche qui l'Italia, Quaglia e Ken vola. Gli azzurri dilagano con il Lichten. 6 a 0 doppietta del Doriano, che diventa il marcatore più anziano della nazionale. Le altre reti del bianco-nero, anche una traversa, Sensi, Verratti e Pavoletti, l'Italia prima da sola e adesso è libera di andare. E lascio liberi anche voi, ma solamente per qualche secondo, per farvi gustare un po' di pubblicità, ma ritorniamo subito dopo. Quindi ritorniamo insieme. Non andate via. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci ancora una volta giunti in studio. Come vi avevo promesso è durata solamente qualche istante la pubblicità e adesso possiamo continuare a vedere quella che è l'informazione in primo piano proprio nella regione Campania. Infatti partiamo da una parte di novità che arriva proprio sul fronte della cultura e vediamo infatti che si parla di segreti del Cristo velato. Le foto della cappella diventano adesso un libro extra lusso e lo vediamo proprio nell'immagine Cristo velato. E infatti la fotografia non potrà assolutamente ma rendere giustizia allo splendore di questo luogo, scrive così in un suo commento una turista inglese sulla pagina social del museo Cappella San Severo difficile darle torto ma questo libro ce la mette tutta per riuscirci. Si intitola infatti la Cappella San Severo e Cristo velato il nuovo testo in italiano ma anche in inglese appena pubblicato dalla casa editrice bolognese Scripta Manent. Propone una campagna di immagini rivoluzionari diversa da tutte le precedenti che hanno investito il Tempio Barocco di Raimondo di Sangro, il monumento più amato di Napoli, 700.000 visitatori l'anno. Sono i dettagli in altissima risoluzione infatti a caratterizzare gli scatti di Carlo Vannini in collaborazione con Gianni Grandi e riproducono i particolari di ogni opera del sito incluse le macchine anatomiche più delle volte in scala 1 a 1. Insomma penso che un po' tutti quanti abbiamo visto almeno una volta nella vita il Cristo velato chi non l'avesse ancora fatto sarebbe il caso di provare a vederlo proprio per rendere in termini proprio concreti quella che è una realtà di un'opera scultoria che rende il più possibile simile alla realtà un corpo tanto da farlo sembrare quasi vivo. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano adesso ci spostiamo sui fatti di cronaca Turismo la denuncia di Federalberghi Capri, troppo degrado al molo Beverello e infatti racconta proprio così questa mattina alla Repubblica Porto o Bivacco per senza tetto quale immagine daremo ai turisti che già da qualche giorno e numero sempre maggiore delle prossime settimane raggiungeranno il molo Beverello di Napoli per imbarcarsi alla volta delle isole e a chiederlo è il presidente di Federalberghi Capri Sergio Gargiulo a margine lavori del BMT la Borsa Mediterranea del Turismo che si è svolta a Napoli dopo una ricognizione effettuata proprio alla stazione di partenza di Rescafi e Traghetti diretti a Capri, Ischia e Progida. Insomma una situazione sempre più degradante e un degrado che si manifesta sempre più agli occhi dei tanti turisti che si rivolgeranno a questi luoghi turistici che rappresentano appunto il cuore di una città sempre viva, pulsante, che ha bisogno solamente di una maggiore attenzione. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo ancora una volta sulla cronaca questa volta andiamo ad Avellino. Bullismo a scuola, bimbo autistico, pensate un po' tenta il suicidio in classe il bambino ha infatti tentato di lanciarsi dalla finestra, è stato però fermato dall'insegnante di sostegno la madre denuncia vessazioni e molestie a sfondo sessuale. Vessazioni continua da parte di compagni di istituto, a volte anche molestie a sfondo sessuale una vita comunque impossibile in un istituto scolastico di Montoro per un studente di Serino con problemi di autismo al punto che venerdì scorso il bambino ha tentato di suicidarsi lanciandosi dalla finestra della classe a secondo piano dell'edificio. È stato fermato in tempo dall'insegnante di sostegno ma l'episodio ha indotto la madre del bambino a chiedere l'intervento dei carabinieri della stazione di Serino ai quali si è rivolta per denunciare le continue vessazioni che il figlio subisce quotidianamente in classe. Insomma una vicenda che lascia tante parole negative e che soprattutto lascia tante sensazioni che rappresentano momenti di fuga per un bambino che avrebbe il diritto come tutti gli altri di vivere spensierato i suoi anni a scuola e sembra che così non possa essere. Molto spesso si denuncia direttamente il tentativo di suicidio quando in realtà è solamente la voglia di scappare e la finestra può essere anche un mezzo attraverso questa fuga si realizza. Insomma prestiamo attenzione perché le situazioni sono sempre più complesse e complicate e non è semplice assolutamente da gestire queste vicende di bullismo. Oggi tanto se ne parla sia di bullismo che di cyberbullismo e soprattutto ripeto se ne parla ma non se ne deve solo parlare bisogna agire perché è giusto che le persone, i bambini, i ragazzini, le donne tutti siano maggiormente tutelati e molto spesso invece come dicevo prima si parla, si parla, si parla ma a fatti concreti tutto è lasciato nelle mani di quello che accadrà. E ancora vediamo lo just soli i bimbi di Moses, noi napoletani non italiani infatti Moses Mone africano del Burkina Faso vive da 10 anni a Napoli con la moglie Eva e i suoi figli i miei figli sono nati a secondi anni, sono napoletani al 100% eppure per loro la cittadinanza italiana è lontana l'Italia rifiuta i suoi figli, sono nati qui e dovrebbero essere italiani di conseguenza non è giusto, è come una mamma che rifiuta il proprio figlio Moses Mone africano del Burkina Faso vive infatti da 10 anni a Napoli con la moglie Eva e i tre figli Asia 11 anni, Kenzo 9 faranno un anno e mezzo piccolo imprenditore pienamente inserito nel contesto sociale della città Moses non manda giù assolutamente il no lo just soli per i propri figli la cittadinanza è importante soprattutto per loro spiega non è facile andare avanti con il continuo rinnovo dei permessi i bambini sono costretti a non andare a scuola quando scade il permesso insomma dopo le vicende che hanno riguardato questi due bambini i rami Adam a cui il nostro governo ha deciso di dare la cittadinanza adesso è un continuo rivendicare un diritto che sembra non essere un premio ma proprio un diritto che molte persone vorrebbero ed effettivamente la denuncia di questo padre che adesso è napoletano e tale si considera dice che comunque la realtà è tutt'altra e per i permessi ci vuole tempo e per i permessi bisogna non andare a scuola insomma una situazione che si presenta sempre più complicata e ancora andiamo a vedere i fatti in primo piano ci spostiamo adesso sul mattino paramedici abusivi l'ASL Napoli 1 diffida iscrizione all'ordine o addio al lavoro e infatti vediamo rischi all'accusa di esercizio abusivo della professione il licenziamento l'infermiere dipendente dell'ASL Napoli 1 che ha un controllo non risulta iscritto all'ordine professionale di appartenenza una situazione da sanare entro 15 giorni sulla base di una diffida inviata agli uffici in mancanza avverte l'ASL sarà avviata la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro come previsto a questo punto dalla legge e ancora una volta ci spostiamo sulla cronaca Napoli i soldi dei turisti usati dal comune per i parafulmini se vi dicessimo che c'è un filo rosso capace di unire gli asili nido di Ponticelli parafulmini del maschio angioino, una villa sotto sequestra ai camaldori e la scuola di alta formazione teatrale del teatro stabile di Napoli voi pensereste che non è possibile che questi luoghi non hanno nulla in comune e sbagliereste perché il filo rosso che lega e collega quelli ad altri decini di luoghi nella città di Napoli esiste e si chiama un posto di soggiorno si tratta della cifra che tutti i turisti in visita a Napoli sono chiamati a pagare per ogni notte trascorsa in città si va da 4,50 euro per 5 stelle e i 2 euro per i band and breakfast a partire dal lunedì prossimo queste somme sono destinate a aumentare 50 centesimi in più per ogni notte trascorsa a Napoli e così il comune fa cassa e a quanto pare con quei soldi dovrebbe vigilare e soprattutto mettere in situazioni differenti proprio queste strutture e gli asili così come i teatri insomma e anche i parafulmini per la città e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano offese alla guardaline ecco De Luca che interviene quel personaggio è un buzzurro è un personaggio a noi ben noto è un primitivo un buzzurro uno di quelli che in altri tempi io definivo un consumatore abusivo di ossigeno così presente alla regione Campania Vincenzo De Luca descrive Sergio Vessicchio giornalista e telecronista per un emittente locale salernitana che nel prepartita di Agropoli Sant'Agnello partita di calcio valida per il campionato di eccellenza Campania Girone B ha espresso giudizi sessisti nei confronti della guardialine Anna Lisa Moccia definendo uno schifo che le donne arbitrassero partite di calcio maschile e insomma questo per il momento gli è costato la sospensione dall'ordine dei giornalisti ma a quanto pare non era nuovo a fatti del genere e soprattutto la denuncia gli è venuta proprio perché la situazione si presentava sempre più complicata insomma anche su questo fronte attenzione perché la realtà è proprio sempre più degradante ma non tanto per le donne ma per chi esprime dei commenti senza neanche avere la capacità di giudizio e ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano ci spostiamo su Caserta News si parla di cronaca anche su questa testata Don Michele pensate un po' ha letto con la 14enne due lettere accusano il parroco ascoltate in aula la psicologa che ha seguito la ragazzina vittima degli esorcismi Don Michele Barone potrebbe aver abusato sessualmente anche della 14enne di Maddaloni vittima dei maltrattamenti durante gli esorcismi è quanto emerso in due lettere scritte dalla ragazzina prodotte in aula dalla psicologa Petrillo ascoltata nel processo a carico del sacerdote del tempio di Casa Pesenna accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della 14enne e di violenza sessuale nei confronti di altri due adepte con lui alla sbarra ci sono i genitori della 14enne ed il dirigente del commissariato di Maddaloni Luigi Schettino insomma una vicenda che si presenta sempre più articolata e con degli elementi sempre più brutti nei confronti di situazioni pregresse ancora vediamo le altre notizie in primo piano schiuma gialla nella riserva naturale il caso finisce su striscia la truppa di Luca Bete al lago Patria per l'allarme inquinamento è infatti un lago che naviga in brutte acque così è stato definito il lago Patria i confini tra Castelvolturno e Giuliano in Campania il più grande lago costiero della Campania grande circa 2 km quadrati e dal 1999 parte della riserva naturale Foce Volturno costa di Ricola un'inquietante schiuma bianca è infatti ben visibile da giorni sulle acque del lago tanto da smuovere le telecamere di striscia la notizia guidate da Luca Bete un problema dovuto agli scarichi in acqua di alcuni impianti fognari della zona oltre a probabili sversamenti illegali sui quali è stata aperta un'indagine una vicenda che fa il palo con la marea nera avvistata la foce stessa del lago Patria con acque nere che hanno raggiunto il mare di Castelvolturno facendo intervenire anche l'ARPAC per prelevare campioni di acqua e adesso si attendono i prossimi sviluppi gli approfondimenti e soprattutto le risposte dell'ARPAC per una vicenda che si manifesta sempre più intricata ma soprattutto sempre più sporca e spregevole e ovviamente noi ci uniamo all'informazione e ci auguriamo comunque che si riesca a trovare una soluzione per tutte queste dispersioni di liquidi ovviamente illegali in questa nostra bella regione insomma attenzione veramente teniamo gli occhi aperti per quanto riguarda la rassegna stampa anche oggi termina qui a voi tutti un grazie per essere stati con noi ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre la possibilità di fare informazione e farla insieme a voi e a voi tutti rinnovo l'appuntamento per la giornata di domani mi raccomando io vi aspetto qui buona giornata a tutti mi raccomando io vi aspetto che ci offre la giornata questo programma è stato offerto da Tecnocampus grazie a tutti